Salve carissimi amici e nemiche, benvenuti sul canale. Diciamo qualche altra parola, sempre per il caso di Lorena Paolini, ne abbiamo parlato anche ieri, vero? Ora, il problema qui si pone in tutta la sua gravità, perché si sta andando verso, come dire, verso la definizione delle indagini, perché questa donna che, vi ricordo, è stata trovata molto a Tortuna, è stata trovata molto strangolata, praticamente, perché, come ricorderete, il marito Andrea Ceri dice che, verso le 12.30, rincasando quel 18 di agosto, la vita l'aveva trovata sano e messa sul divano, aveva chiamato i soccorsi, si è sentita male, si è sentita male, ma questo suo sentissimo male, non poteva averle provocato un solco alla gola e quindi da lì le indagini. Ora, oggi perché facciamo un altro video? Perché ieri abbiamo detto che, abbiamo parlato, insomma, di questo guinzaglio che, dopo tutte le analisi, sembra essere stato individuato come l'arma del delitto, perché è un guinzaglio in corda, diciamo, in corda, come una fune sottile, e che potrebbe essere stato usato lì, perché era questo guinzaglio che, sempre a portata di mano, che veniva lasciato in giro per quella stanza, pronto all'uso ogni volta che dovessero uscire. E di questo guinzaglio ce ne parla, ieri ce ne ha parlato, a ore 14, proprio la sorella, ecco, la sorella della povera Lorena, cioè la sorella Silvana. Ora Silvana ci ha detto delle cose importanti. Ci ha detto, ovviamente, che quel guinzaglio era lì disponibile, buttato proprio a volte sul divano, e ha escluso dalle risultanze, insomma, che nessuno possa essere entrato in casa. Dice di non avere avuto più contatti con il cognato, Andrea Ciri, e quindi capirete che i rapporti sono molto freddi. Però ci dice una cosa importante, che la famiglia, diciamo, di Andrea Ciri si è un po' allontanata, si è chiusa nel silenzio, e hanno insinuato, diciamo, hanno insinuato il dubbio che la donna possa essersi suicidata. Attenzione, qui stiamo parlando di una bestemmia vera e propria. Perché poi, a seguito di queste parole di Silvana, qui dice, loro hanno cercato di dire si è suicidata, ma ovviamente è una cosa che non trova alcun tipo di riscontro. E da lì, vedete, c'è la riflessione proprio sulla qualità del dibattito, che anche televisivo, se non si ha un minimo, come dire, di capacità di analisi. Nel momento in cui si dice c'è un'ipotesi di suicidio, allora quell'ipotesi di suicidio deve essere minimamente teoricamente fattibile, perché altrimenti parliamo, come dire, uno è stato sparato quando non ha segni, come dire, l'arma da fuoco, no? Bisogna partire da un minimo di presupposto. Non parlare del nulla mischiato al nulla. Cosa voglio dire? Voglio dire che nel momento in cui l'autopsia ha stabilito che questo solco sul collo è un solco da strangolamento, allora nel momento in cui qualcuno, chiunque, dicesse ma questo solco sul collo potrebbe essere, non so, un suicidio per impiccaggione. Io non lo so, c'è chi dice ci sono differenze, ma teoricamente potrebbe. Ma allora, allora, è di tutta evidenza che il marito quando entra alle 12.30 la trova seduta, diciamo apparentemente seduta sul divano, come se si fosse sentita male. Non è che la trova appesa a una trave o trova una fune spezzata, magari appesa a un infisso, a una trave del soffitto o qualcosa. Cioè, voglio dire, colui o con lei che si dà la morte attraverso il suicidio. Poi, ovviamente, non hai il tempo dopo di cancellare i segni del suicidio, specie se si tratta di un'impiccaggione. Quindi, questo suicidio col segno sul collo, praticamente è impossibile. Non è che la donna si strozzava da sola e poi lasciava il segno. Ecco. Allora, allora, quando si dicono certe cose, senza alcun tipo di presupposto, ovviamente, sfocia dopo il ridicolo. Quindi, quando si parla di suicidio, si può parlare quando una persona viene trovata morta, allora si dice facciamo l'esame tossicologico, può darsi che ha incerito dei medicinali, allora può essere. Oppure un suicidio, se la si trova magari che si è buttata di sotto da qualche parte, dice, può essere che l'abbia fatto. Ma, quando in casa, senza segni di affrazione e di niente altro, si trova una donna morta con un solco al collo e niente altro, non dobbiamo parlare di suicidio o di impiccaggione, di cosa. E dove si è impiccata? Dove? Quindi, siamo ragionibili. Quando si fanno, io capisco, per carità, ma qua non c'è bisogno di essere particolarmente competenti in certi settori. Quindi ho trovato, quasi di cattivo gusto, passare anche minimamente per due minuti l'idea di poter discutere, diciamo, sull'ipotesi vaga che la donna possa essersi suicidata. Di cosa? Come? Ecco. Allora, il problema vero e proprio è che nessuno è entrato in quella casa e che la donna aveva un solco sul collo perché è stata strozzata e probabilmente, secondo le analisi effettuate fino ad oggi, con il guinzaglio del cane, che è praticamente come una fune. Ok? Poi, poi bisogna trovare il movente. Il movente è stato confermato dalla sorella Silvana che a precisa domanda, a lei risulta che esiste una donazione o testamento con la quale la suocera aveva dato circa 600.000 euro destinata a lei, la sorella dice, dice di sì, che le risulta questa cosa. Quindi implicitamente ne dà una conferma. E questo è qualcosa di notevolmente importante. Perché qui, diciamo, al di là della passionalità a volte, vedete, alla base di tutti i delitti o c'è una passionalità malata o ci sono gli interessi o ci sono tutte e due insieme. In questo caso qui si è parlato di anni prima che c'era stato un allontanamento per motivi sentimentali, eccetera. Però poi si è parlato della grande amicizia per anni e anni che c'è stata tra la suocera e la povera Lorena. E la suocera, vi ricordo, è morta alla vigilia, mi sembra di feste agosto, qualche giorno prima. E sicuramente, o probabilmente, diciamo così, per essere cauti, cosa è maturata? Che subito dopo si è arrivato al dunque, dopo la morte della signora, si è arrivato al dunque che è uscito fuori o questa donazione o questo testamento in cui una gran parte dell'eredità di questa donna andava direttamente a Lorena. Quindi andava in automatico a essere detratta da quella che doveva essere la destinazione per i figli della suocera di Lorena. E questa potrebbe essere stata la scintilla. Potrebbe essere stata la scintilla. Perché questa cosa magari non l'avevano saputa i figli, non l'aveva saputa magari nemmeno il marito Andrea. Potrebbe essere questa la scintilla. Magari, magari che sia andata a innescare in un rapporto che si vociferava comunque non fosse granché. Potrebbe essere questo. Però a parte le motivazioni che pure sono importanti, l'importante è che questa donna è stata ammazzata. Non parliamo di assurdità, è stata ammazzata e nel momento in cui la stessa sorella Silvana dice nessuno qui parla di uno sconosciuto e la sua espressione dice tutto. Nessuno è entrato in quella casa. Nessuno. Sono state fatte tutte le verifiche. Per cui, proprio come dire, per esclusione non c'erano altri. Vediamo se dall'analisi approfondita su questo guinzaio uscirà qualcosa. Forse bisognava farlo prima. Vedete, giustamente, come è stato detto anche nella puntata ieri, si nota un rallentamento, ecco, in tutte le indagini. Un rallentamento paradossale perché, ad esempio, questo guinzaio, ora si dice molto probabilmente l'arma del delitto, facciamo l'esame per il DNA se si trova qualcosa. Ma da quel 18 di agosto, ecco, sono passati due mesi. Ora, ma anche in linea precauzionale, tra tutti gli oggetti, si poteva fare molto prima, anche sul guinzaio, come su altre cose. Comunque, come dire, meglio tardi che mai. Quindi seguitemi anche per questo caso, perché questo è un caso importante, perché noi dobbiamo dare giustizia a queste donne vittime di violenza, di femminicidi, perché altrimenti non si sviluppa nemmeno una coscienza collettiva. Questi assassini devono sapere, almeno, che c'è chi ne parla di questi casi e che prima o poi la giustizia, seppur lenta, fa il suo corso. Devono sapere che lo Stato esiste, lo Stato esiste e che prima o poi la giustizia asiva a fare il suo corso. E io ve lo dico da uomo di Stato. Ho servito lo Stato per per oltre 40 anni e ne sono orgoglioso. Grazie, grazie e un abbraccio a tutti quanti voi.